I dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia registrano 5.735 nuovi casi Covid su 203.511 tamponi effettuati e un tasso di positività che sale al 2,8%. 11 morti nelle ultime 24 ore e 299, i pazienti ricoverati in terapia intensiva 11 in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 2.631, il più alto numero di casi in Sicilia con 822 nuovi positivi. Grazie a tutti.